Ciao, Alessandro quanto tempo non ti sento, per fortuna abbastanza, magari magari, e invece sei qui, sono qua, dall'altra parte questa volta, dall'altra parte del microfono e non sei abituato a stare dall'altra parte, di solito sei quello che indaga e invece oggi ti indago un po' io, adesso cosa facciamo insieme lo sai no? Cosa che facciamo insieme? Non lo so, una pizzeria, abbiamo un ristorante. Quello è nei nostri sogni più turchi, ma nella realtà... Siamo co-founder di una holding, Mamazing di H1. Sì, sì, c'è anche lo studio, facciamo cose, facciamo cose e vediamo gente. Mi faceva piacere, no? Siccome a te piace sempre stare dietro le quinte e mettere in luce gli altri, invece volevo sapere che cosa ha portato te ad essere qui oggi, quindi qual è stato il tuo percorso? La follia, la pazzia, tanta, tanta. Io arrivo dal mondo della comunicazione e tu lo ben sai, poi ho lavorato subito dopo la laurea in agenzie video di comunicazione, ho avuto la mia agenzia di comunicazione e poi niente, noi eravamo amici, ci vedevamo qualche volta, ci siamo frequentati fornitore, cliente, insomma in tutte le salse. E un bel giorno mi hai raccontato di una start-up su cui eri ripartito da pochissimo, che era Pony Zero. Nel maggio del 2013, ti ricordi? Sì. Ma tu hai fatto di tutto, hai detto Laura, Laura Allo? Allo IED. Allo IED. Esatto. Quella strana scuola. Tra l'altro ci sono gli open day tra un po', quindi... Vuoi andare? Vuoi ricominciare da capo? No, grazie. Mi hai parlato di questa start-up qua, io ho detto secondo me non ce la farà mai, e poi ho detto ma sai che quasi quasi, potrebbe essere quasi un'avventura divertente. Quindi ho preso i soldi che c'erano, li ho picchiati dentro, quello è stato secondo me il mio turning point più importante. Il tuo battesimo del fuoco, lo definiamo. Sì, perché ho iniziato a capire cos'erano le start-up. Tra l'altro l'ho capito secondo me nel momento migliore dove iniziavano proprio le start-up, quindi abbiamo avuto modo, ho avuto modo di impararla con poca competizione intorno, quindi con abbastanza tranquillità, ecco mettiamola così. Poca competizione ma anche tante difficoltà perché non c'era nessuno a mostrare la strada. Esatto. E questo com'è stato? Molto, molto... No, è stato difficile. La cosa che mi ricordo, una cosa che fa ridere, che mi ricordo è la difficoltà di fare il primo pitch. Cioè proprio metterlo giù graficamente. Uno dice no, sono quattro slide, non è vero, non sono slide. È stato complicatissimo, è la cosa che mi ricorderò per sempre. La cosa che mi porto dietro è il potermi mettere, il coraggio di potermi mettere dappertutto. Nel senso che a me piace, mi piacciono le operation, mi piace parlare di branding, fare un po' di, mettermi lì a fianco magari dei co-founder e fargli un po' di advisory su quella che è la direzione. Adesso parlo anche della parte finanziaria, purtroppo, per me. Diciamo che l'anima da start-upper mi ha dato quel coraggio in più per mettermi poi in gioco su tanti fronti. Mi ha fatto diventare trasversale, quasi orizzontale. Sei un profilo, come dicono adesso nel mondo del marketing, a ti. Esatto. Poi abbiamo venduto nel 2018, come tu ben sai, e poi insieme abbiamo deciso di montare Amazon più IH1, che è nato un po' dopo, è nato nel 21. Ti piace la parola montare in particolare? Mi piace molto. Vedo che la ripeti in diversi... Mi piace molto. Diciamo che Amazon è stato il mio secondo turning point perché poi in realtà qua è nostro e quindi tante responsabilità, tante cose nuove da imparare. Ho messo a servizio quello che avevo imparato e ne sto imparando un sacco di altre che però non volevo imparare. No, non è vero. Che però mi sta divertendo molto. Mi racconti cosa fai adesso? Io lo so in realtà, però ovviamente per la parte... Adesso mi occupo della parte di fundraising, quindi adesso stiamo raccogliendo, stiamo noi, Alessandro Mina, insieme a te, stiamo raccogliendo la holding, quindi stiamo chiudendo la raccolta su IH1. Siamo arrivati a 4 milioni e 2. Sta andando tutto bene? Sta andando tutto bene. Siamo, secondo me, ben oltre le più rosee aspettative, quindi sono confidente che a fine 24 si chiudano i famigerati 10 milioni. Sai che sono confidente a un inglesismo, no? Sono contento di come è andata la mia vita negli ultimi 10-15 anni perché il tutto mi ha portato per essere oggi quello che sono e secondo me anche le persone che mi hanno ruotato attorno mi hanno arricchito e tu mi hai dato il coraggio quando non c'era. E secondo me adesso sono sicuramente più rotondo rispetto a come potevo essere se avessi fatto una strada diversa. Lo penso anch'io. Dovrei mangiare meno. Siamo entrambi più rotondi di una volta. No, però chiaramente è una cosa che condivido, cioè ci siamo probabilmente completati a vicenda e ci siamo dati coraggio a vicenda. Volevo spendere due parole anche sulle persone che hanno deciso di seguirci all'interno della holding, devo dire che è tutta gente iper allineata con lo studio, noi abbiamo sempre come obiettivo sia di team che dei soci di sceglierci a vicenda. Sì, di avere persone con le quali condividiamo dei valori. E con tutti ci siamo scelti, abbiamo una compagine sociale molto interessante, tutta fatta di grandi professionisti, investitori, gente con cui scambiamo molto bene e che ci stanno supportando. Abbiamo anche un bel team, direi. Ma, bah, bah. Sì, abbiamo un bel team. Abbiamo un gran bel team. Non cambierei con niente nessuno. Bene, bene. Oh, che dire. Grazie. Ah, così, basta, la chiudiamo così? No. Ciao, grazie. No, dai, ci ritroviamo a parlare ancora, no? Ci ritroveremo tra qualche mese. Ci ritroviamo a parlare tra qualche minuto, però diciamo che magari per… Tra qualche mese. Tra qualche mese. Ok, così vediamo se siamo stati abbastanza bravi. Grazie per il tuo tempo. Grazie. A te, mamma. E grazie per, insomma, per aver tolto un po' di tempo al tuo lavoro per stare qua. Grazie. Ciao. A presto. Ciao.